... Ribelle, aggressivo, playboy irresistibile, sono tanti gli aggettivi usati per Colin Farrell. Quello che possiamo dire noi è che lui è un attore umile, che non gioca a fare il vivo, nonostante abbia tutte le carte in regola per farlo. Se Dottor Incalito è Bad Boy, l'irlandese Colin alterna film indipendenti e ruoli da duro, come nel caso di Pride and Glory, in cui è un poliziotto corrotto e violento. Ragiona, si coprivano tra loro seppellando la verità. Quello che fa sembrare i poliziotti colpevoli non va bene. I reati diminuiscono e gli arresti aumentano, è quello che volevi, il fine giustifica i meci. Ma nella vita, anzi, è simpatico e pronto a scherzare, come ha fatto anche con l'inviato di Strisciana Notizia, con cui si è messo a parlare, pensate un po' di calcio. Nel cinema un gangster, nella vita, come ci spiega, cerca di restare semplicemente se stesso. Questo è tutto quello che faccio, e quando faccio pretendere essere altre persone, faccio pretendere essere me.